... Continuano le indagini sull'omicidio di Margarita Ceschini. Il procuratore di Treviso lancia un appello ai residenti della zona di Colegliano che ha visto movimenti sospetti o subito furti si faccia avanti e denunci. Può essere utile per identificare i responsabili. Crack da Notobanca. Entro l'estate la procura notificherà l'avviso di chiusura indagini a 12 tra manager e dirigenti per l'inchiesta sulla banca rotta. Fra questi c'è l'ex AD Vincenzo Consoli. 59enne in bicicletta travolta da un'auto, reese più decimo, un incidente sotto la pioggia. Questa mattina la donna è in terapia intensiva in ospedale. Tragica escursione su un sentiero della Gordino per un 77enne di paese che colto da malore muore davanti a parenti e amici. È successo nel pomeriggio. 8 giorni di sospensione per un locale di San Vennemiano la decisione del questore dopo numerosi episodi di violenza che avevano come protagonisti gli addetti alla sicurezza, vittime e gli avventori. Il possibile addio della questura all'ex area Piani è il commento del presidente della Camera di Commercio che con Fondazione Cassamarca aveva intrapreso un braccio di ferro per evitare il trasferimento alla cittadella delle istituzioni. Domene al via i saldi estivi, Federmoda Treviso ottimista, spesa media per famiglia prevista nel settore abbigliamento 259 euro, ma lo spettro di inflazione potrebbe influenzare la scelta dei consumatori. Una puntata particolare stasera dalle 21.15 con la nostra storia è il percorso di nascita della Liga Veneta e l'entrata in Consiglio Comunale a Treviso tra le interviste quella a Umberto Bossi e Gianfranco Miglio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque ritorniamo a parlare in primo piano del delitto di Margherita Ceschina Conegliano. Le telecamere da sole non bastano a fare chiarezza. Per questo il capo della procura di Treviso si rivolge ai residenti di Conegliano e della zona, soprattutto a chi ha subito furti e tentati furti, ma non ha denunciato. Fatevi avanti, dice. Analisi approfondite anche sul telefonino della donna che potrebbe essere stata aggredita alle spalle. Sentiamo. Chi non avesse denunciato furti, anche solo tentati, perché magari questi non gli hanno creato danno, si facesse avanti dalle forze dell'ordine perché potrebbe dare delle indicazioni che potrebbero essere importanti per collegare questi episodi con quello molto più grave, accaduto ai danni della signora Ceschina. L'appello ai residenti di Conegliano è diretto e arriva dalla procura della Repubblica di Treviso impegnata nel ricostruire gli ultimi istanti di vita di Margherita Ceschina, la 72enne uccisa nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno all'interno della sua abitazione di via 28 Aprile. Ogni indicazione può essere utile, soprattutto se ad agire, ed è una delle ipotesi, sono stati dei topi d'appartamento. Sicuramente tra i filoni di indagine c'è la verifica di furti commessi nella zona, non necessariamente nel quartiere, ma più in generale nella zona di Conegliano, in abitazioni con modalità analoghe, cioè introduzione nell'abitazione, magari attraverso finestre. Una cosa è certa e il capo procuratore di Treviso lo fa intendere chiaramente, da sole le telecamere non bastano. C'è un lavoro continuo che è iniziato praticamente nei giorni successivi alla scoperta dell'omicidio, sulle telecamere di sorveglianza della zona di Conegliano, ma certo che la qualità delle immagini non è sempre il massimo. E se ci fossero delle persone che hanno visto movimenti sospetti, che non sono state ancora individuate e sentite dai carabinieri, sarebbe una cosa molto utile, di grande senso civico, se si facessero avanti. In questa fase non si lascia nulla al caso, anche per questo approfondite analisi saranno effettuate sul telefonino della 72enne, che seppure rotto è stato ritrovato in casa. Verrà sicuramente esaminata la memoria del cellulare per ricostruire con la messaggistica un po' la rete di relazioni sociali della signora, ma dubitiamo che sia da lì che si possa ricavare il nome di chi l'ha uccisa. Su quel telefonino potrebbe essere stato digitato il numero dei soccorsi, una telefonata mai partita. Non ha fatto in tempo a chiamarli, sarebbe risultato dai tabulati. Non ha fatto in tempo a chiamare nessuno. Probabilmente aveva intenzione di farlo, ma non ha fatto in tempo a farlo. Questo significa che forse è stata colpita alle spalle? È possibile, è possibile. Ci sono vari tipi di dinamica compatibili con i dati oggettivi, le lesioni alla signora, le condizioni dell'appartamento, eccetera. Non si possono in questo momento ricostruire i dettagli precisi dell'aggressione e dell'omicidio. Continuano dunque le indagini su questo delitto, dai contorni ancora non del tutto chiari. Ci sono ancora dei punti e diversi interrogativi in questa delicatissima indagine. Torneremo a parlare della Procura fra poco parlando del crack Veneto Banca. Prima però la cronaca dell'incidente è avvenuto questa mattina a Riese Pio X, poco prima delle 8, una 59enne in sella alla bici è stata travolta da un'auto, una Fiat Punto con al volante un'altra donna, una 43enne. La vittima dell'investimento in serie condizioni è stata trasportata. Con l'elisoccorso in ospedale a Treviso si trova ricoverata in terapia intensiva. Svolgere i rilievi la polizia locale del corpo della marca occidentale. Secondo alcuni testimoni l'auto si sarebbe immessa lungo via Castellana senza rendersi conto del sopraggiungere della ciclista. C'era un forte temporale in quel momento. Ciclista che è stata investita, definita a terra, riportando un forte trauma cranico. E' questo che ha reso necessario il ricovero in terapia intensiva. E poi lo schianto nel pomeriggio nel tratto maledetto della 4 tra Cessalto e Sanstino di Vivenza. Per cause da accertare poco dopo le 16 un pullman turistico ha tamponato un mezzo pesante. Fortunatamente si registrano solo feriti lievi tra le persone a bordo del bus. Il traffico ha subito dei rallentamenti ma l'intervento delle forze dell'ordine e del suo non ha costretto a chiudere il tratto di autostrada. Però un altro incidente sempre in quel tratto che purtroppo ha visto tantissime vittime. Poi l'incidente con il trenino della Pineta, il trenino turistico di Eraclea. Un trenino turistico che verrà sospesa, la cui attività verrà sospesa per tutta l'estate. Lo dice il sindaco di Eraclea. Intanto continuano le indagini anche per stabilire e accertare con certezza quanto è accaduto. Il trenino della Pineta di Eraclea mare è sospeso per tutta l'estate corrente. Più che una scelta, una decisione forzata dal fatto che dall'incidente con i 14 feriti, tra cui due bambini di 1 e 9 anni, accaduto verso le 21.30 del lunedì scorso 3 luglio, il mezzo si trova ancora sotto sequestro. E chissà per quanto tempo ancora lo sarà con il perdurare delle indagini, finite le quali dovrà inoltre essere riparato perché non ci sono altri trenini al momento disponibili. Così a TVO, cui fa capo la FAP, la ditta di autotrasporti che da 12 anni gestisce il trenino turistico al sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin, davvero amareggiata da questa notizia. Sicuramente è un'attrazione che su Eraclea mare era tanto sentita e tanto voluta. Nel frattempo i carabinieri stanno analizzando e passando al setaccio tutte le immagini del posto, viste le tante telecamere presenti lungo l'autostazione. La verità in merito all'errore umano ammesso da FAP sta tutta nei frame, nelle mani dei carabinieri di Sandona di Piave e di Eraclea, incaricati delle indagini. Mentre sui social i commenti sull'accaduto sono più che unanimi. Era un modus operandi degli autisti guidare il trenino della pianeta in quel modo, dicono ancora sotto shock, puntando il dito contro l'autista. Da parte sua il 61enne di Spresiano è stato il primo a scendere e prestare soccorsi, senza perdere tempo e cercando di non farsi cogliere dal panico. Mi dispiace per l'accaduto, ha detto dopo l'incidente. Doveva essere un momento di gioia e spensieratezza per i turisti, che si stavano godendo quella che è comunque un'emozione, parte della loro vacanza. Così scusandosi, mentre il sindaco rassicura il trenino tornerà il prossimo anno. Torniamo a Treviso. Entro l'estate la Procura notificherà l'avviso di chiusura delle indagini a 12 tra manager e dirigenti dell'Istituto di Credito, finito in liquidazione amministrativa 4 nel giugno del 2017. Il filone è quello della bancarotta fraudolenta. Tra le persone ai quali verrà notificato l'avviso di chiusura delle indagini c'è l'ex amministratore delegato, Vincenzo Consoli. Le indagini su questo filone di reati fallimentari commessi nella gestione di Veneto Banca sono ormai addirittura d'arrivo e entro l'estate verrà emesso l'avviso di chiusura indagini dove verranno dettagliati i capi di imputazione nei confronti di una dozzina di indagati. Non fa nome il capo procuratore di Treviso ma è chiaro che anche stavolta protagonista del terzo e ultimo filone delle indagini sul crack di Veneto Banca sarà Vincenzo Consoli, già condannato a tre anni per il reato di ostacolo alla vigilanza dalla Corte di Appello di Venezia nel gennaio scorso e attualmente a processo in primo grado per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. In questo caso il focus è su una serie di reati fallimentari tra questi la fattispecie più pesante è quella di bancarotta per distrazione. Non più e non solo il meccanismo delle cosiddette azioni baciate sotto la lente dei sostituti procuratori Massimo De Bortoli e Gabriella Cama ci sarebbero anche diversi finanziamenti concessi a gruppi e aziende senza adeguate garanzie soprattutto per speculazioni finanziarie, importi ingentissimi anche per decine di milioni di euro. In questo terzo filone sembra scongiurato l'incubo prescrizione diventato realtà con l'accusa di falso improspetto e che potrebbe scattare anche per le ipotesi di truffa il perché sta nel codice di procedura. Il rischio di prescrizione per questo filone è abbastanza remoto perché il tipo di reati che verrà contestato ha una prescrizione di 10 anni almeno che diventano 12 e mezzo con gli atti interruttivi e il decorso della prescrizione parte dal 2017 quando c'è stata la sentenza di messa in liquidazione. Sull'eventuale processo terra già pende però un'altra spada di Damocle visto che la Corte di Cassazione deve ancora esprimersi sul ricorso presentato contro lo Stato di insolvenza una pronuncia in senso contrario rispetto a primo e secondo grado condurrebbe il terzo filone su un binario morto. L'altra variabile riguarda la costituzione di parte civile dei risparmiatori. Normalmente nei processi per bancarotta si costituisce parte civile il curatore che recupera nell'interesse di tutti i creditori le somme recuperabili nei confronti degli imputati e poi le mette a disposizione della massa dei creditori con dei piani di riparto che tengono conto dei crediti di ciascuno e anche del livello di privilegio che ogni credito ha. Ancora la cronaca more colto da un malore durante un'escursione vittima un 77enne di paese il dramma, la tragedia davanti ad amici e parenti nel Lagordino lungo il sentiero a metà strada tra il rifugio Carestiato e Forcella Camp in direzione del luogo è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore mentre i compagni hanno iniziato a praticare le manovre di rinunerazione che però sono risultate vane così come quelle dei medici del Suem la salma è stata recuperata e trasportata in piazzola d'Agordo dove attendevano il personale del soccorso alpino, i carabinieri e il carro funebbe purtroppo per i 77 anni di paese non c'è stato nulla da fare Ancora la cronaca, stavolta a San Vendemiano gli addetti alla sicurezza sono accusati di aver più volte aggredito fisicamente gli avventori del locale il questione di Treviso ha perciò disposto otto giorni di sospensione dall'attività nei confronti del locale Mamilla di San Vendemiano svariati i controlli effettuati dal commissariato ma anche dai carabinieri nel periodo tra il 2022 e il 2023 avevano infatti documentato diversi episodi che hanno destato anche allarme sociale sia all'interno che nelle vicinanze del locale e che consistevano in gravi aggressioni fisiche attuate nei confronti di avventori da parte proprio degli soggetti impiegati come addetti al servizio di controllo dei locali proseguono le attività poi di controllo sul territorio da parte del commissariato di polizia di Conegliano Ancora la cronaca una 51enne di Vittorio Veneto che era accusata di un reato di maltrattamenti anche gravi nei confronti del marito è stata assolta con formula piena Inizialmente era emerso uno scenario da incubo ora la sentenza scagiona con formula piena una 51enne di Vittorio Veneto che era stata accusata di picchiare e vessare il marito malato Episodi che risalivano al gennaio del 2020 a Fontanelle quando i coniugi erano sul punto di separarsi Litigate furibonde per la casa anche di fronte al figlio minorenne e poi violenze, minacce e vessazioni fisiche che la donna avrebbe inflitto al marito gravemente malato Calci, graffi al viso anche un quadro rotto sulla schiena dell'uomo che per un breve periodo aveva preferito nascondersi in cantina Prima del processo il marito è morto a causa della grave patologia di cui soffriva mentre la donna era stata accusata dei reati di maltrattamenti familiari e lesioni personali aggravate Ora la soluzione è perché il fatto non sussiste Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate Per l'avvocato Stefano Arrigo il collegio deve aver accolto la sua tesi difensiva In questo caso i diverbi non erano frequenti il litigio sporadico non costituisce un reato di maltrattamento erano solo screzzi dovuti all'aggravarsi della situazione familiare la donna ha accudito fino alla fine dei suoi giorni il marito Ci sono dei giovanissimi invece che compariranno sempre in tribunale la prossima settimana per l'accusa pesante di essere una vera e propria banda specializzata in aggressioni a studenti nei treni e non solo Un 22enne di Treviso un 21enne Lombardo e un 20enne di San Biagio di Callalta italiani di origini africane su di loro la pesante accusa di essere una banda specializzata nell'aggredire studenti in treno o sugli autobus per rubare loro soldi o collanine con pesanti minacce Il colpo per il quale sono finiti in tribunale la rapina in treno ha un 14enne di Altivore nel febbraio del 2022 sulla linea Treviso-Castelfranco una violenta aggressione che fruttò appena 25 euro con minacce di morte se la vittima avesse denunciato tutto Il colpo fu immortalato dalle telecamere di sorveglianza del treno e la polfer identificò il 22enne di Treviso che vistosi scoperto ha collaborato con le forze dell'ordine coinvolgendo i due complici anche per due rapine avvenute sugli autobus Martedì prossimo saranno davanti al giudice delle udienze preliminari Torniamo a Treviso torniamo a parlare della fuga dalla Piani dall'ex area Piani la fuga con il probabile addio anche della Questura ne abbiamo parlato nei giorni scorsi a commentare oggi questa notizia è uno che quell'area la conosce bene il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza con il seno del poi abbiamo avuto ragione di rimanere qua il possibile addio della Questura all'ex area Piani dopo Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate dà ragione al presidente della Camera di Commercio Mario Pozza che con Fondazione Cassamarca aveva intrapreso un vero e proprio braccio di ferro per evitare il trasferimento dell'ente da Piazza Borsa alla Cittadella delle Istituzioni capitolo chiuso peraltro solo di recente quando il risico immobiliare aveva già dimostrato di non funzionare anche noi a suo tempo dovevamo andare lì non si è avverato questo anzi sta cambiando tutto penso che anche Fondazione Cassamarca dovrà ripensare come rilanciare tutto ciò il rischio ora è che il nuovo quartiere sorto intorno a Piazza delle Istituzioni si svuoti spero che insomma trovino una quadra per poter rimettere in campo Piazza delle Istituzioni e che non diventi uno scatolone vuoto certamente il caro degli affitti così mi è stato detto ovviamente lo Stato da anche lui guarda a fare economia e questo ha fatto sì che ovviamente arrivino queste disdette Treviso non è una grande città è una piccola città probabilmente le dimensioni della Piani sono troppo troppo grandi per la nostra realtà poi c'è anche da dire un'altra cosa che con la pandemia molto è cambiato nel modo di comunicare nel modo di gestire anche le attività e quindi meno presenza meno uffici e questo incide anche su tutto ciò Il sindaco Conte aggiunge Pozza sta lavorando perché quell'area non subisca un drastico abbandono lo stesso presidente della Camera di Commercio non esclude che la provincia lasci Sant'Artemio per trasferirsi qui ma fa notare anche che è fondazione a dover risolvere il rebus La proprietà è sua di loro e quindi sono loro che dovranno riflettere al loro interno su che destinazione fare e che investimenti fare per rilanciare la città certo ci sono ancora tanti spazi vuoti dalla realizzazione però purtroppo è andata così e non si può fare diversamente Potenziare l'università ci può stare adesso mi sembra che sia arrivata anche la disdetta nell'ex distretto militare e quindi altri spazi so che il sindaco li sta cercando può darsi che anche quella sia una collocazione Svotamento di un'area c'è sempre il rischio insomma del degrado in zona nelle zone in questo caso in una zona fuori delle mura ma c'è già una realtà di degrado o meglio di insicurezza dentro le mura e non solo per i furti ma anche per i giovanissimi vandali Alla sera faccio fatica da solo andare in giro per Treviso perché vedi tanti ragazzi che sono allo sbando insomma Ha paura? Sì Sinceramente sì Ha paura Luana Torresan socia di uno dei bar di Piazza Pola un angolo del centro della città ormai ostaggio dei cosiddetti baby vandali l'ultimo episodio un furto nella notte rubate da un gruppo di giovani tre sedi del locale riposte nel plateatico e dopo la denuncia alla polizia locale a raccontare l'accaduto le immagini di video sorveglianza siamo riusciti a vedere dei ragazzi che sono venuti apposta a prendere queste sedie in un primo momento solo in modo conviviale poi in un secondo momento altri tre ragazzi ci hanno portato via tre sedie un atto vandalico che costerà le tasche del bar più di 300 euro oltre a creare danno creano anche danno economico quanto costavano queste sedie? 120 euro a sedia quindi facciamo un conto veloce? 380 euro di tre sedie atti vandalici in Piazza Pola ormai all'ordine del giorno danni ormai da mesi anche al plateattico di un altro bar quando noi lasciamo aperto il plateattico che succede? tutte queste bande che sono in giro come se spargessero la voce danno comunicazione e arrivano in massa tipo 20, 50 io mezzo della notte l'altra sera sono dovute arrivare erano le 12 e mezza e questo con i piedi sopra rifiuti che non ti dico le sedie buttate a destra e a sinistra una piazza che ormai di notte diventa un far west è una roba tua che paghi il comune e soprattutto il plateattico perché viene pagato non abbiamo una certezza che il giorno dopo troviamo la roba a posto resteremo a Treviso dopo la pubblicità per parlare del via ai saldi estivi Rieccoci in studio in diretta e allora sempre da Treviso per il via domani ai saldi estivi le previsioni di Federmoda il sentimento è quello di trovare ancora nei saldi quello strumento fondamentale essenziale e per il rilancio per andare incontro naturalmente ai consumatori ma soprattutto anche poi per quello che ha a monte le tenute finanziarie dei nostri esercizi commerciali non sono solo i clienti a caccia di sconti ad aspettare le svendite di fine stagione i saldi restano un passaggio atteso anche dai commercianti secondo un'indagine condotta da Conf Commercio Veneto e Union Camere il 52% degli intervistati prevede di spendere da domani la stessa cifra dell'anno scorso il 16% qualcosa in più ma quasi il 33% invece annuncia che spenderà di meno anche sui saldi pesano i contraccolpi dell'inflazione che ha investito i settori primari dall'alimentare all'energetico si vedrà dice Paludetti se prevarrà questo aspetto oppure se la complessiva ripresa dell'economia nazionale farà sentire i suoi effetti benefici anche sul commercio che a sua volta ha cercato di non riversare sulla clientela i continui rincari non siamo andati o perlomeno abbiamo scaricato in minima parte quelli che erano al fine del 2022 e dell'inizio 2023 i costi energetici e dopo i costi di fornitura di produzione che purtroppo sono saliti molto e questo spero che ci premi il settore il settore moda quello su cui si concentreranno le attenzioni dei trevigiani si prevede una spesa media a famiglia di 259 euro per l'abbigliamento contro i 236 a livello veneto 214 euro per le calzature 150 per gli accessori treviso seconda in veneto per soglia di spesa solo a Rovigo che tocca i 336 euro la previsione rispetto ai saldi dell'anno scorso è di un aumento di spesa del 20% siamo anche contenti di vedere il dato che i negozi fisici i negozi di prossimità sono quelli diciamo preferiti quindi anche questo ci conforta è chiaro che le difficoltà sono tante ma l'ottimismo non deve mancare si parte con gradualità le svendite proseguiranno fino a fine agosto con un progressivo aumento della percentuale di sconto le prime con la nuova direttiva europea Omnibus entrata in vigore il primo luglio che fissa dei paletti alle operazioni commerciali più spregiudicate e intanto resta però lo spettro concreto molto concreto dell'inflazione ne abbiamo parlato ieri ampiamente e continuiamo a farlo oggi in questo processo di irrazionale aumento dei prezzi tutti sono coinvolti tutti dal negoziante a chi compra un aumento dei prezzi che non risparmia nessuno bene di prima necessità alle stelle sacchetti della spesa peso d'oro alla cassa percentuali alla mano pagheremo ad esempio il riso il 46% in più un'inflazione che punta dritto al carrello della spesa crescono i prezzi anche di pasta frutta di stagione banane e olio di oliva e se da una parte è chiara la direzione dall'altra lascia perplessi la natura del fenomeno non è comprensibile come questo fenomeno si realizzi adesso quando i costi dell'energia sono notevolmente calati questo anche se ci sono state di mezzo siccità alluvioni e la questione Emilia si ha comunque la sensazione che ci sia una inflazione derivante dai profitti ne sta parlando anche la BCE ne stanno parlando anche altri enti che si scaricano sul consumatore finale c'è chi parla quindi di un'inflazione derivante dai profitti o chi come il presidente federconsumatore di Verona Maurizio Framba che va dritto al punto si chiama speculazione lo possiamo dire chiaramente grazie io lo dico tranquillamente guardi c'è uno studio recentissimo degli economisti degli economisti del Fondo Monetario Internazionale che parlano di grid flession che tradotto in italiano è inflazione da avidità speculazione o inflazione da avidità il risultato o meglio i prezzi non cambiano anzi aumentano e con gli acquirenti sempre più agguerriti nell'aria uno sciopero nazionale di una settimana che vedrà protagonista la pasta gli scioperi che diventano una guerra tra poveri sono assolutamente controproduttivi nel senso che i negozianti sarebbero i primi a patirne e sono anche loro come noi famiglie per cui ci vogliono altri tipi di ragionamento ragionamenti che Federconsumatori traduce in una supervisione dei prezzi noi pensiamo che la cosa vera da fare sia creare all'interno di ogni prefettura quindi dentro ogni città dove vi è la prefettura un coordinamento un comitato per il controllo prezzi e far intervenire laddove i prezzi non sono conformi a quelli che dovrebbero essere l'autorità pubblica competente la politica o meglio l'autonomia il nostro counter ogni giorno aggiorna la situazione 2082 giorni dal referendum e intanto ieri chi porta avanti il percorso dell'autonomia ha incassato le dimissioni di quattro membri del comitato per la individuazione dei LEP quindi un ostacolo sul percorso ma dice il ministro Calderoli si va avanti scelta politica quella dei dimissionari secondo il presidente Luca Zaia l'iter dell'autonomia differenziata proseguirà le dimissioni di quattro dei componenti del comitato per l'individuazione dei LEP i livelli essenziali di prestazione non inficcerà un percorso ormai avviato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli si dice stupito sorpreso e rammaricato per la decisione di Giuliano Amato Franco Bassanini Franco Gallo e Alessandro Paino ma fa notare come di membri del comitato ne rimangano comunque 58 ancor più motivati dice nel raggiungimento dell'obiettivo e rincara il governo va avanti ce ne faremo una ragione delle loro dimissioni e porteremo a casa questo risultato di civiltà intervenuto in diretta a Focus il presidente del Veneto Luca Zaia ha dato una connotazione politica alla scelta dei dimissionari penso che chi si è dimesso comunque fa parte di una parte politica che non condivide l'autonomia perché questo ormai è chiaro la sinistra non la condivide io sinceramente non faccio tante tragedie ognuno è libero di fare quello che vuole se questi esponenti hanno deciso di mettersi ne prendo atto perché sono così terrorizzati dall'autonomia probabilmente perché temono che attraverso i LEP si scoprano degli altarini e degli scheletri negli armadi è così? ha assolutamente ragione guardi le rispondo con le parole di un uomo di sinistra un grande uomo di sinistra Giorgio Napolitano quando gli chiesero che cos'è l'autonomia lui disse una vera assunzione di responsabilità allora se se tu spendi e spandi a un certo punto arriva qualcuno che ti dice vabbè adesso iniziamo a fare i conti cioè tu ti chiudi in casa lo chiudi fuori casa ecco questi in generale che sono contro l'autonomia non vogliono aprire la porta il che non vuol dire che bisogna spaccare il paese che bisogna mettere a pane d'acqua qualcuno ma bisogna guardare i conti opposta la prospettiva del senatore Andrea Martella segretario regionale del partito democratico secondo cui dopo le dimissioni dei quattro autorevoli componenti del comitato il buonsenso imporrebbe a governo e maggioranza di fermarsi e approfondire per Martella il vero nodo è l'assoluta indeterminatezza delle risorse finanziarie che dovrebbero definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti senza discriminare nessuno o creare oneri non sostenibili per la finanza pubblica e conclude continuare ad accanirsi su un disegno di legge che così appare senza prospettive non è dignitoso per il governo è un apposito di Lega e di Lega in Veneto l'abbiamo parlato a lungo in questi giorni in queste settimane seguite al congresso regionale della Lega una puntata davvero particolare da non perdere quella della nostra storia questa sera dalle 21.15 con il nostro Lucio Zanato perché con Mauro Michelon che qui vediamo nelle immagini giovanissimo ma che poi eccolo qua ospite di Lucio Zanato per ripercorreremo la nascita della Liga Veneta dalle origini con l'entrata nel 1985 in consiglio comunale di Treviso rivedremo un'intervista allo storico politologo e teorico della Lega Gianfranco Miglio un giovane Gianpaolo Gobbo ma anche poi una delle prime interviste di Umberto Bossi nella marca quindi una puntata davvero da non perdere quella di questa sera eccolo qui Bossi nella marca trevigiana intervistato proprio da Antenna 3 il nostro archivio immenso archivio storico quindi la storia della Liga Veneta e della nascita della Liga Veneta questa sera ma ci sarà spazio anche per uno dei volti storici della DC trevigiana ed ex sindaco di Loria Fausto Favaro che li percorrerà con Lucio Zanato le fasi della politica della marca dagli anni 80 fino ai primi arresti di Tangentopoli quindi portata da non perdere questa sera dalle 21.15 su Antenna 3 con la nostra storia e con Lucio Zanato e noi adesso andiamo nel bellunese e noi adesso andiamo nel bellunese e apriamo con una importante importantissima notizia che riguarda l'economia e riguarda Safilo perché ci sono due trattative parallele che potrebbero garantire la totale ricollocazione degli attuali 458 lavoratori della Safilo di Longarone oltre a quella già nota con Telios Safilo ha annunciato che sono in fase avanzata accordi con l'imprenditore Carlo Fulchir patrona di iVision gruppo che nell'ottobre 2020 acquisì lo stabilimento di Martignacco in provincia di Udine le quote societarie non sono ancora state definite ma la parte più consistente andrebbe a Telios e le restanti a iVision Safilo auspica che grazie al coinvolgimento pieno delle parti sociali e delle istituzioni l'intero processo di cessione possa arrivare a una rapida definizione approfondiremo i tempi rapidi in tempi rapidi questo progetto industriale commenta in una nota del pomeriggio l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzano l'obiettivo è quello di consentire alle parti sindacali e aziendali di raggiungere il miglior accordo possibile e per questo la regione si è resa disponibile a favorire questo primo confronto già nei prossimi giorni e la notizia è arrivata appunto nel pomeriggio di questa trattativa parallela per Safilo c'è anche la nota del presidente della provincia Padrin che ha detto a breve convocheremo il comitato di sorveglianza socio-istituzionale proprio per fare il punto della situazione e chiedere la conferma di quanto ci viene detto oggi quindi un tema che approfondiremo anche nei prossimi giorni a partire da domani quello di questa svolta importante possibile per Safilo la sanità la sanità e parliamo di un territorio belunese nel quale il melanoma pensate è il sesto tumore più frequentemente diagnosticato nell'Ulss 1 lo rilevano i dati epidemiologici che evidenziano un'incidenza più alta rispetto al resto del Veneto e che pongono la provincia montana pensate al pari dell'Australia e della Nuova Zelanda sono numeri che impongono una riflessione si afferma nel quartiere generale dell'azienda ospedaliera queste simpatiche tovagliette che hanno stampati i disegni realizzati dai bambini delle scuole bellunesi che hanno partecipato al concorso per la realizzazione di slogan e manifesti promozionali contro il melanoma sono una delle iniziative messe in campo dall'Ulss 1 Dolomiti per affrontare di petto il preoccupante aumento dell'incidenza di questo insidioso tumore della pelle abbiamo un aumento medio annuo in percentuale che arriva a un 5% circa che è superiore a quello appunto della regione Veneto che ha 3,8% nell'uomo e 3% nella donna a parlare la direttrice della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'università di Padova che questa mattina nel quartier generale dell'azienda sanitaria bellunese ha esposto i dati epidemiologici sul melanoma il cui trend lo porta ad essere fra le prime 6 cause di tumore rilevati nel bellunese in rapida ascesa rispetto al biegno 90-92 quando il melanoma era al diciottesimo posto una patologia multifattoriale è quella del melanoma che presenta fattori non modificabili come il fototipo cutaneo la familiarità e genetica e i fattori esterni sui quali salva vita risultano i comportamenti salutogenici cioè generativi di salute è importante che ci sia questa informazione che anche in montagna è importante proteggersi attraverso la crema solare una buona crema di protezione con fattore SPF non inferiore a 30 è la principale alleata della salute della nostra pelle soprattutto in montagna dove ogni mille metri di altitudine l'intensità dei raggi solari aumenta del 10% montagna sì melanoma no è il nome del progetto di prevenzione del melanoma che l'Uls1 ha avviato da tempo il melanoma si può prevenire è una malattia appunto che prevede delle iniziative di contrasto molto significative di prevenzione primaria stiamo lavorando con le scuole lavoreremo con i rifugi utilizzando queste tovagliette come campagna di promozione positiva promuoveremo appunto l'uso ampio della crema sul territorio in tutte le occasioni opportune rifugi inclusi qui parliamo di promozione della salute cioè sviluppare stili di vita che possono essere appunto utili a mantenere uno stato di salute il più ottimale possibile il sole sicuramente fa bene ma va preso a giuste dosi e con le giuste protezioni ed è fresco di montaggio il video che prende in prestito l'antico saluto usato tra i sentieri della montagna belunese Sani e lo trasforma in Sana per la promozione dell'uso della crema in montagna come abbiamo visto che l'Ulsa ha realizzato grazie al sostegno di Confindustria Belluno e Dolomiti e che sarà diffuso dal CAI nazionale lo vediamo Sani Sana Sani Sana è il nuovo saluto di chi usa la crema solare in montagna Sani Sani e colate dunque il monito dell'Ulsa 1 che si diffonde anche con il sorriso a Feltre tornano i venerdì d'estate ma questa volta non si tratta soltanto di un carnet di eventi fine a se stessi Le aspettative sono molte, speriamo che abbiano una bella risposta, aspettiamo tutti i feltrini e le zone limitrofe in centro feltre con dei bei gruppi, c'è una bella atmosfera, una voglia di ricominciare col commercio dopo il covid, dopo i vari problemi. Stavolta l'obiettivo è quello di ridare fiducia e riaprire il dialogo fra la città e le attività economiche, un fil rouge che prende per mano feltre e i commercianti, i suoi fruitori e i turisti, oltre un pacchetto di eventi fine a se stessi. L'occasione è nata per rinverdire una tradizione ormai consolidata, fatta di tante esperienze in questi anni sui venerdì. Musica e shopping d'estate con una coda autunno-invernale fino al Natale, una stagione quasi unica per feltre che vuole riscoprirsi città turistica, ma serve un'adesione convinta da parte di tutti, commercianti compresi. Dopo anni di investimenti sia pubblici ma anche privati bisogna decidersi o siamo turistici o no, se siamo turistici bisogna tutti quanti sulle maniche bisogna lavorare su questo. Una sfida che l'amministrazione Fusaro ha accolto, convinta che l'unità di intenti sia l'unica modalità per far progredire la città. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben trovati al meteo, tempo instabile a causa di perturbazioni atlantiche che sfilando al di là delle Alpi favoriranno l'infiltrazione di aria più fresca sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sulla Veneto la grafica di giovedì 6 luglio ci mostra un contesto molto variabile con al mattino precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti. Col passare delle ore fenomeni via via più intermittenti. Nel pomeriggio sarà ancora possibile una residua variabilità sui rilievi più asciutto e soleggiato altrove. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 24 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso iniziale maggiore nuvolosità con rovesci temporaleschi sparsi. Entrosera miglioramento con piogge in esaurimento. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti con piogge più diffuse e intense specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato. Soluzioni per star bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.